In questo momento della tua vita ti faccio una domanda Chi sono i tuoi mentori? Perché tante persone guardano questo video e dicono Mentori, boh, a parte che tante persone non guardano neanche questo video Non ce la fanno avere 30 secondi di attenzione Però, tante persone invece diranno Mentori, io non ho nessun mentor E questo potrebbe essere un problema La mia filosofia l'ho appresa appunto da dei miei mentor E' quella di avere sempre un qualcuno Che guardi e dici Cazzo io voglio arrivare ai risultati che ho ottenuto quella persona Mettiamo conto, faccio un esempio molto semplice Se io vado in palestra e seguo una persona che ha ottenuto dei risultati grandiosi Io seguo i suoi consigli Possono essere su Youtube, può essere un personal trainer Può essere, non lo so Chiunque, se io seguo questa persona e dico Cazzo, ha un bel fisico, voglio raggiungere quel tipo di fisico E mi affido ai suoi consigli Raggiungerò quell'obiettivo molto più velocemente Che se mi baso solamente su quello che mi viene trasmesso O comunicato in sogno Quindi quali sono i tuoi mentori che magari devi ancora trovare Però chi potrebbe essere delle persone di cui ti fidi E che vuoi seguire nei prossimi mesi Lascia un mi piace, iscriviti Posto anche un'altra giornata Ciao campione